Completamente demolito il castello accusatorio eretto contro il distributore Erg di Casa Micciola, che aveva condotto al sequestro di alcuni erogatori di carburante e al deferimento in stato di libertà del titolare della stazione di servizio Stanisenese. Gli agenti del commissariato di Ischia guidati dal vicequestore aggiunto Alberto Mannelli, in collaborazione con la locale tenenza di Difinanza, avendo avuto contezza circa l'erogazione errata di carburante presso il distributore, avevano eseguito un servizio congiunto al fine di appurare la veridicità della notizia acquisita. Dai controlli effettuati era stata rilevata una deficienza non precisamente quantificabile, ma si presume che veniva frodato oltre mezzo litro di carburante ogni 20 litri erogati. Dalle immagini realizzate delle forze dell'ordine era emerso che il display della colonnina iniziava a conteggiare senza che fosse ancora partita la reale erogazione del carburante. Il Tribunale del Riesame ha annullato il sequestro e ha ordinato la restituzione del bene al senese. Infatti, in accoglimento dell'istanza presentata da Senese, amministratore della società che gestisce l'impianto, difeso dagli avvocati Annalisa Mazzella e Ivan Colella, il Tribunale del Riesame ha ribaltato il provvedimento di sequestro del GIP a seguito di accertamenti condotti dalle forze dell'ordine locali. I difensori hanno dimostrato documentalmente gli errori commessi al momento della contestazione dei fatti, evidenziando la mancanza di qualsivoglia responsabilità del proprio assistito. Il Tribunale, in maniera perentoria, disponendo all'annullamento del sequestro, ha ordinato la immediata restituzione del bene sottoposto a misura al suo titolare. Il signor Senese ha dichiarato, ho sempre creduto nell'operato della magistratura anche quando mi è stato letteralmente gettato del fango in faccia, tentando di compromettere la mia immagine di imprenditore onesto. Occiesto ha detto Senese ai miei avvocati, che ringrazio per il pregevolissimo lavoro prestato, di sollecitare la immediata archiviazione del procedimento.